Il bravissimo Fabio Fognini va al secondo turno del Roland Garros, la seconda prova della stagione del grande slam a Parigi in Francia. L'azzurro numero 12 del mondo, 9 del seeding, va a sconfiggere il connazionale, il buon Andrea Seppi numero 71 dell'ATP. Con un punteggio di 6 a 3, 6 a 0, 3 a 6, 6 a 3 in ben 120 minuti più altri 21 per un totale di 141 minuti complessivi, quindi 2 ore e 21 minuti circa. Ripeto, 4 i set complessivamente avuti, di cui poc'anzi vi ho denunciato il relativo risultato. Svelevelev va ad approdare, a faticare al secondo turno del Roland Garros, il tedesco numero 5 del mondo e del seeding va a sconfiggere il John Millman numero 56 del ranking ATP. Con un punteggio di 7 a 6, 6 a 3, 2 a 6, 6 a 7, 6 a 3 in 4 ore, ben 8 minuti complessivamente. Vi ringrazio in primis per la visione di questo video di oggi, complimenti ovviamente al tennista, al buon per l'appunto sia Andrea Seppi che ovviamente all'altro tennista di cui vi ho parlato in questo video di oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate, un caro salutone da Alejandro, alias narratore italiano.